Abbiamo visto in questi giorni un accanimento molto forte nei confronti di un'emittente televisiva che secondo me è abbastanza ingiusta perché sul dibattito sulla legge, sulla omotransfobia credo che sia giusto che ognuno esprima la propria opinione e questo avere un'opinione diversa non significa essere omofobici o essere intolleranti. E anzi c'è un certo atteggiamento pruriginoso da parte della sinistra e del PD e di tutto quel mondo che non avendo più argomenti sta cercando sulla scelta ideologica di abbracciare questa legge sull'omotransfobia una propria identità sociale da rivendicare non avendo più nulla da dire su tutto il resto perché hanno governato malissimo e quindi ci hanno cercando di radicalizzare uno scontro ideologico senza senso. Io personalmente sono molto tollerante, non ho mai avuto nessun problema di omofobia anzi ritengo che l'omosessualità e tutte le forme che sono presenti nella nostra società vanno rispettate e tollerate. Credo però, avendo anche tanti amici omosessuali e lesbiche che mi raccontano la loro vita non tutti gradiscono che ci sia una legge che in qualche modo le faccia diventare delle specie sotto tutela. Ovviamente i reati devono essere valevoli per tutti, ci devono essere sanzionati per comportamenti che discriminano però credo che in questo momento non stiamo parlando della discriminazione. Qui c'è in gioco un'altra cosa, c'è in gioco che la sinistra non ha più argomenti e sta cavalcando con una proposta di legge un dibattito che dovrebbe essere per i diritti civili ma in realtà è un dibattito che serve solo per avere un qualcosa da raccontare ai propri elettori oppure per cercarsi ai nuovi elettori. Io credo che tanti gay, tante lesbiche, tanti trans non cadano in questo tranello anzi penso che ci sia una grande tolleranza ormai in questa società che è molto più forte di quello che qualcuno ci vuole far credere.